Le 20.000 persone a corsa a San Siro malgrado il gelo vedono premiato il loro tifo con una autentica scorpacciata di gol. È in vena l'attacco del Milan e tocca all'ala Mariani di battere per primo il portiere austriaco dopo una brillante azione di Nordal. 1-0 per il Milan. Ed ecco una finezza del pompiere e il secondo pallone milanista è messo nel sacco. 2-0 per il Milan. Ancora Nordal è di scena. Incanta la difesa viennese, serve con calma Ricagni. Il tiro del petisso lascia di ghiaccio il portiere austriaco. 3-0 per il Milan. I milanisti si concedono qualche distrazione e in un veloce contraattacco del Rapid Golovic da un metro non ha difficoltà a segnare. Ecco il gol. 3-1 per il Milan. Nella ripresa preme sempre il Milan ma a Mariani si prende il lusso di mancare un gol facile. Subito dopo il centroattacco viennese ricambia la cortesia e perde un'occasione veramente d'oro. Ma ecco ripartire Nordal sulla sinistra e scaraventare irresistibilmente Igreggia da posizione angolata. 4-1 per il Milan. E' sempre il pompiere in azione. Eccolo lanciare Frignani il cui tiro non perdona. 5-1 per il Milan. Su un contraattacco viennese Vinst ha la palla utile e batte Buffon. 5-2 per il Milan. Poi con una filezza Ricagni si beve la difesa e insacca di precisione. 6-2 per il Milan. Il portiere milanese con una prodezza ferma un contropiede austriaco. E Schiaffino con un bollido fuori aria conclude la felice serie milanista. 7-2 per il Milan. Con questa autentica vendemmiata di gol i rossoneri entrano in semifinale nella Coppa dei Campioni.